Due squadre appaiate in classifica oggi, Aubameyang, Tony, prova la botta, Coman, Correa, Correa! E di sbagliare anche le giocate più elementari. Bene, intercetta il pallone, non era difficile. A metri per andare, Aubameyang, recupero, Asan, Correa, ecco il tiro. Ed è gol, Rettel! Prova la botta, attenzione, Rettel! Wateng spazza via lui, match che finisce qui. Rettel! 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 Rettel!